guerrieri bentornati nel nostro fight club oggi parliamo di call of duty modern warfare e più precisamente di come sbloccare la skin obsidian in meno di 12 ore prima di cominciare ricordatevi di mettere un like al video ed iscrivervi al canale inoltre vi aspetto su twitch tutte le sere al canale twitch tv slash bitlogger la sfida è veramente tosta bisogna innanzitutto aver sbloccato la skin gold per l'arma che vogliamo upgradare a obsidian dopodiché parte la maratona bisogna fare 15 kill 200 volte in un match multiplayer per fortuna questa volta l'activision ci grazie e ci dà la possibilità di cumulare le kill fatte in un singolo match quindi 60 kill in una partita ed avanziamo di 4 step nel contatore per l'obsidian cazzo ma 60 kill sono veramente tante da fare prima di tutto approfittiamo di shipment 24 7 che ci farà fare un botto di kill e poi usiamo questa bella kill streak che ci piace tanto per farci i nostri gameplay e fare ancora più kill di quelle che siamo abituati a fare io mi sono messo cluster strike vitol e chopper gunner anche queste kill contano nella sfida mi sembrava impossibile ma funziona veramente provate voi scegliete le kill streak che vi piacciono di più e che vi permetteranno di fare più kill le modalità sulla mappa sono tutte buone anche se io ho preferito crank ed error point la sfida è veramente frustrante ed è molto lunga ma alla fine potrete girare su warzone con un completo veri veri sneaky con la skin udt di ghost e la skin obsidian dell'arma difficilissima da spottare se sei in un angolino buio vi lascio con il video vi aspetto sul mio canale twitch keep fighting alla prossima ragazzi ciao 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 ciao